Musica 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 Cadeggio e poi Perugia partenza flop per i voli Cobrex la compagnia che trasporta in Romania a Narni sfilano le belle dame mentre a Umbria Jets con David Byrne e i Crane Smokers gli ospiti della prossima edizione si parla anche di pallavolo nella prima del Corriere perché la Sir e ieri Sir Perugia è stata ospitata in regione a Palazzo Domini abbiamo dedicato un ampio servizio nel nostro TG Sport ma si guarda anche al futuro e soprattutto il futuro passa anche dalla permanenza di Ivan Zeizer la Sir passa la palla al giocatore nativo Umbro originario russo Zeizer l'offerta cede buona ma tocca a lui dice il presidente poi calcio il grifo per i playoff chiede strada al grande ex Moscati che veste la maglia del Novara e sarà prossimo avversario la cronaca invece richiamata dalla Nazione che nel dorso nazionale ovviamente parla della novità governo Lega 5 Stelle con l'astenzione benevola così è stata definita di Forza Italia ma la cronaca arriva da Lumbria manda giù un tappo di penna operato un bimbo di 11 anni era finito nei polmoni difficoltà respiratorie intervento provvidenziale e poi l'ennesimo caso scolastico di ribellione ben fuori le righe rimprovera lo studente professore preso a schiaffi tutto questo è accaduto ad Avellino ma merita insomma di essere evidenziato invece il dorso regionale si apre col jazz e le polemiche presentate il super cartellone di Umbria Jazz ma il patron Pagnotta tuona ancora ed è un po' un tormentone negli ultimi anni sui mancati fondi sebbene ricordiamo negli ultimi anni ci sia stata una nuova legge nazionale che garantisca un milione di euro per la manifestazione i palazzi del potere aprono le porte ai campioni della siera regione comune celebrano lo scudetto del volley e poi mette nel naso un tappino e gli va giù il bambino viene operato la richiamo dalla prima pagina quante buche sulle strade raddoppiano le richieste di risarcimento e poi a Spoleto condannato per satira ora addirittura a rischio la sua candidatura a sindaco mentre la politica sembra essere ormai unanime il sì per uno studio epidemiologico complessivo nella nostra regione per capire quanto sia pulita l'aria che respiriamo a Città di Castello venditori ambulanti in rivolta la protesta arriva in consiglio mentre Giardini del Frontone tornando a Perugia si esibisce vicino alle scuole a Teosceni denunciato un anziano chiudiamo la carrellata proprio parlando di scuola infortuni a scuola e l'apertura scelta dal messaggero mille feriti all'anno in Umbria quasi il 10% degli incidenti che si verificano durante un'attività avviene nelle aule o in palestra e vede coinvolti più piccoli serve più prevenzione le buche killer in falsa apertura buche killer delle gomme le strade più a rischio e 45 a Todi con le strade il viadotto Genna sono i punti più critici richiamato Umbriagezza anche sul messaggero svelato il cartellone ricca edizione ma non mancano le polemiche poi due ragazzini di 11,5 anni salvi per miracolo uno è quello del tappino l'altro è stato operato di urgenza per un malore aiuto vogliamo un semaforo l'allarme lanciato dai commercianti di Via Angeloni a Perugia e a proposito di Perugia sportiva di Carmine Cerri le cifre raccontano una stagione da trascinatori ma oggi come detto è in edicola torna in edicola dopo numerosi mesi di assenza cartacea anche se era attivo come testato online il Corriere Nazionale il nuovo Corriere Nazionale che non è testata Umbra ma parla anche dell'Umbria e soprattutto alla sua direzione Giuseppe Castellini volto noto della carta stampata ma negli ultimi due anni anche popolare sui nostri schermi con tante trasmissioni dedicate in particolare all'economia come abbiamo visto l'apertura ovviamente su Mattarella un quotidiano di cronaca ma anche di opinione ovviamente politica ed economica Mattarella la classe del mite li ha giocati così Berlusconi adesso vacilla e apre appunto all'alleanza Lega 5 Stelle e poi vedete il primo piano di Moro trame e ombre la ricostruzione di quanto accante e di quanto non si sa del delitto Moro di 40 anni fa ma c'è anche lo sport calcio i diritti tv è tutto da rifare in questo primo numero del Corriere Nazionale c'è il manifesto dei valori firmato proprio da Giuseppe Castellini una sorta di promessa e proprio manifesto dei principi su cui basare questa avventura editoriale del CN appunto del Corriere Nazionale la curiosità se ci spostiamo con il nostro Luigi Picciolini a pagina 8 eccola qua perché si parla di Istat che la crescita sta rallentando ovviamente un ampio spazio come detto all'economia ma nel taglio basso come possiamo vedere viene richiamata anche una intervista che è andata in onda nella nostra emittente nella rubrica economia curata da Giuseppe Castellini uscire dall'euro dipende l'intervista al vicepresidente degli economisti italiani e se andiamo nella pagina successiva troviamo proprio anche una foto tratta dalla trasmissione economia che va in onda il venerdì sera proprio con Giuseppe Castellini e il vicepresidente degli economisti italiani questo per il Corriere Nazionale al quale ovviamente auguriamo un in bocca al lupo al direttore ovviamente e alla redazione noi torniamo ai nostri quotidiani tra poco daremo anche un'occhiata al nostro sito trgmedia.it ma intanto dalla politica nazionale o meglio internazionale visto che il presidente del Parlamento Europeo Tajani fa un regalo all'Umbria alla Valnerina devolve 30.000 euro ai terremotati il presidente ha ricevuto in Spagna il premio Carlo V e lo ha girato alla ricostruzione a Norcia i soldi saranno destinati a rimettere in piedi la campana della torre civica un gesto sicuramente lodevole e che ci piaceva sottolineare parliamo anche di banche mondo bancario che in Umbria è soprattutto esogeno proviene da fuori anche la BPS sappiamo fa parte ormai del gruppo bancadesio ebbene il Corriere apre a tutta pagina Spoleto rinasce con bancadesio Umbria braccio del gruppo deliberato il trasferimento del centro servizi operativi e del disaster recovery intanto si ipotizzano gli effetti della ventilata fusione con Credem che però nega l'interesse staremo a vedere cosa accadrà e poi c'era una volta due pagine addirittura sul caso AGEA c'era una volta l'Umbria regina di efficienza per i pagamenti AGEA nel 2012 eravamo la regione leader in Italia nell'erogazione di contributi ora perdiamo posizione non sappiamo reagire ai ritardi dell'agenzia AGEA non si tocca ma serve un cambio di passo dice l'assessore regionale Cecchini tra i ritardi e cavilli burocratici anche un mutuo per salvare l'azienda l'imprenditore Alfredo Faso la ripercorre l'odissea che lo vede protagonista e sappiamo ha tuonato contro questi ritardi dell'AGEA ma anche contro il lassismo della regione su questo fronte il presidente di Confagricoltura Fabio Rossi ai nostri microfoni spazi al quale abbiamo dedicato un TRG Plus nei giorni scorsi che trovate anche nel nostro sito trgmedia.it ma non decolla ancora neanche il nuovo vettore dell'aeroporto di San Francesco d'Assisi regionale Cobrex i biglietti slittano ancora per due dei cinque nuovi voli verso Bucarest e Barcellona prenotazioni possibili solo tra una settimana sugli altri tre è addirittura fitto mistero e poi la fondazione ieri abbiamo seguito sul nostro TRG Plus questa iniziativa dalla fondazione Cassia di risparmio di Perugia due nuovi bandi a tema nel mondo della scuola Viale Roma furti e danni alle auto lunotto spaccato sportelli forzati per prelevare qualsiasi oggetto lasciato negli abitacoli e poi nessuna domanda per Villa Capitini la stava deserta la base d'acquisto della struttura di Sant'Andrea delle Fratte partiva da 2 milioni e 600 mila euro si ritenterà a breve intanto il mini metro taglia il traguardo dei 2,7 milioni di passeggeri ok a bilancio di esercizio confermati 10 milioni di costi di gestione la società dice risultato economico inferiore ma comunque soddisfacente andiamo alla nazione dalla quale ripartiamo con le buche che sono un po' il tormentone della testata fiorentina i danni delle buche il titolo grande 70 denunce a mese richieste raddoppiate in via Mariangeloni a attraversare una lotteria troppi rischi la gente chiede un semaforo e poi la rotatoria in via Brunamonte asfaltatura sotto la pioggia ci sono polemiche mentre pini abbattuti strade più secure a case bruciate qui alcune opinioni raccolte appunto dalla nazione c'è anche il fenomeno frecciarossa perché perché è un vero boom quello delle prenotazioni del treno veloce che parte alle 5 di mattina dal capoluogo e che si vorrebbe spostare più a sud da Terni può addirittura portare con un'analoga tratta la proposta del comitato ultimo treno verso la Campania e la Calabria in soli tre mesi oltre 16 mila passeggeri è il convoglio veloce più gettonato nel 2018 150 persone al giorno parliamo di una cifra di circa tre volte superiore a quanto preventivato mette nel naso il tappino della penna poi gli va giù bambino operato la professoressa esposito serve il pronto soccorso pediatrico dice Susanna esposito primario di pediatria e poi agricoltura ora il bio alza la voce più risorse per il nostro comparto flash mob degli imprenditori sotto la sede dell'assessorato il settore in Umbria rappresenta 879 produttori 37.900 circa 38.000 gli ettari coltivati e poi la promozione i baci ambasciatori del Made in Italy il cioccolatino perugina streghe Bayer la pralina in vetrina al Cibus alla rassegna di Parma dedicata all'eccellenza culinaria atti osceni a due passi dalle scuole la cronaca scatta la denuncia per un anziano accaduto ai giardini del frontone protagonista un 75enne che era l'ingresso dei giardini e poi ci sono anche proposte hot in pasticceria commerciante perseguitata per mesi e denunciato per stalking il suo come dire il suo stalker appunto il suo molestatore questa vicenda arriva da Gubbio ma la nazione la tratta nelle pagine regionali l'operaio morto sulla contessa ricordate Cristian Fiorucci nei mesi scorsi 27enne vittima di un incidente chiuse le indagini dopo lo scambio di persona tra vittima e indagato inizialmente la prima ricostruzione dava la vittima come colui che stava guidando in realtà la consulenza ha stabilito che non sarebbe così la velocità non adeguata alle condizioni meteo la vittima non aveva la cintura e alla guida soprattutto c'era il suo amico che ora ovviamente è sotto indagine per tutto questo chiudiamo la nostra carrellata regionale con il messaggero che apre anche qui da Perugia dalle strade di Perugia incidenti e investimenti ogni giorno in Viangeloni subito un semaforo lo chiedono i residenti martedì una ragazza finita sotto un'auto ieri altri pericoli lungo le strisce pedonali la proposta quello che c'è ora è in una zona inutile spostiamolo di qualche decina di metri ancora capitolo menze che hanno fatto molto discutere nel mesi scorsi in città la qualità è quasi da podio Vagedice il risultato che ripaga il lavoro fatto piano parchi sicuri cittadini sentinelli in arrivo alla definizione di un patto tra prefettura questura comune di Perugia associazioni 22 progetti in vale il vice sindaco dice si inizia con l'area di piani massiano il rotari trova i fondi per le telecamere alla pescaia e insomma un'occhiettina in più anche con l'aiuto civico di tanti cittadini non guasta ma il tema scelto dal messaggero per l'apertura è quello degli infortuni a scuola ogni anno si fanno male in mille un piccolo esercito di feriti di cui nessuno parla i sindacati dicono serva al più presto una migliore prevenzione e poi anche il messaggero parla dei baci perugina icona made in Italy ha la rassegna CIBUS mentre attesa per i voli all'aeroporto mentre Frecciarossa taglia i 16.000 biglietti e poi fondazione Cassa di risparmio di Perugia 450.000 euro per la comunicazione a scuola il tema del TRG Plus di ieri sera che oggi andrà in replica alle 13.30 che più tardi troverete nel nostro sito questo per quanto concerne le pagine regionali ma andiamo a dare un'occhiata al nostro sito proprio al trgmedia.it per aprire il capitolo dei comprensori perché ieri abbiamo aperto il nostro TG su Gubbio 2022 cosa accade tra quattro anni di così importante beh c'è il centenario della nascita ed è il sesto centenario della nascita del Duca di Montefeltro che è nato a Gubbio al castello di Petroia e allora a TRG parla la direttrice del Palazzo Ducale Paola Mercurelli Salari che dice siamo già al lavoro per le iniziative celebrative in sinergia con Urbino nei giorni scorsi abbiamo anche visto una interessante rassegna espositiva al Palazzo Ducale di Urbino a quale è stato chiamato a collaborare Spartaco Capanelli l'architetto Capanelli e si è parlato di come un collegamento diretto con un sito come il Palazzo Ducale di Urbino che taglia centomila presenze all'anno possa essere fondamentale anche per la città di Gubbio la cronaca Foligno arresto per droga da parte dei carabinieri la vicenda che ritroveremo nelle pagine e poi lo sport e il ricevimento della Sir Perugia Palazzo Donini a Gualdo si sta lavorando per l'arrivo del Giro d'Italia martedì prossimo la viabilità stravolta ovviamente il 15 maggio fin dalle 5 del mattino off limits diverse zone e poi l'11 maggio a Foligno ci saranno gli stati generali del turismo a Montone il Comune cerca sponsor per abbellire le rotatori e poi uno sguardo anche ai nostri programmi col costume ovviamente la festa dei ceri in primo piano perché stasera torna l'attesa la quinta puntata e ci sarà lo vediamo nella foto Giovanni Vantaggi capo 10 del cielo di Sant'Antonio intervistato con gli amici della manicchia di Torre Calzolari ma poi anche tanti altri spunti il ricordo dei ceri del 68 con l'infortunio in corsa del cielo di Sant'Ubaldo ma anche gli aneddoti con i campanari anche si parlerà di arte arte scultoria con Giuseppe Allegrucci proporremo anche un inedito audio da un vinile degli anni 60 dedicato alla festa di ceri che abbiamo filmato ovviamente e riprodotto in versione televisiva tutto questo stasera e poi ovviamente tanti altri spunti tante altre notizie video all'interno del nostro sito ma noi ripartiamo dai quotidiani proprio dai comprensori partendo da Assisi la città è pronta per la parata di Big perché se il 15 maggio il giro sarà a a Gualdo il 16 sarà a Assisi prima ancora però di tutto questo sabato beh sabato arriva la cancelliera Angela Merkel e la prossima settimana il presidente del Parlamento Europeo Tajani insomma una parata di Big in pochi giorni ad Assisi il primo compleanno del santuario della spogliazione sarà salutato da politici e prelati anche a Cannara si andrà al voto il 10 giugno tre liste in campo caccia all'ultimo voto sabato si conosceranno tutti i nomi da città di Castello si guarda verso le Marche il Monte Nerone risorge dalle Ceneri un gruppo di Tifernati punta con convinzione a rilanciare il rifugio Corsini distrutto un anno fa da un incendio pronti 500 mila euro intanto giovani e anziani uniti nel ricordo di Venanzio Gabriotti eroe della resistenza partecipate in iniziative nel giorno del 74esimo anniversario della sua fucilazione cittadini ma non sudditi siamo a Umbertide Umbertide partecipa a Pungia la civica sostiene l'ex sindaco Locchi e punta su sanità giovani e frazioni e poi Ceri eccoci qua a Gubbio Ceri o Gubbini custodi della festa mentre la sicurezza continua a far discutere il punto con Lucio Lupini presidente del Maggio Gubbino rifatti i costumi dei consoli delle chiarire novità anche per l'imbandieramento in vista di una corsa super e come detto stasera ne parleremo all'attesa quattro scatti gratis intanto in cambio del pass di accesso ai palazzi e il Dout Des che quest'anno l'amministrazione comunale pone sul piatto dei tanti fotografi che chiedono l'accreditamento per fotografare immortalare i Ceri e poi Anna Boninsegni sarà invitata nella giornata di domani in Toscana per la Basilica di San Miniato che festeggia i suoi mille anni Anna Boninsegni poetessa e Gubbina mentre niente noi aspettando l'arrivo del 15 maggio tante iniziative oggi stamane dalle 10.30 presso il centro accoglienza Aldomoro ci sarà la festa dei ragazzi del centro domani toccherà alla casa di riposo Mosca e domani ci sarà anche l'inaugurazione della mostra Brocche d'autore ma c'è una città invece che pensa solo in rose ed è Gualdo Tadino a meno di una settimana dall'arrivo del giro tutto pronto quasi per l'evento si predispongono le ordinanze e soprattutto tante modifiche al traffico troverete i dettagli nel nostro sito ancora da Gualdo ex commilitoni si ritrovano dopo 50 anni avevano fatto la leva nel primo squadrone carri a Palma 9 e poi a Nocera Porta Santa Cruz ha chiesto le dimissioni dell'ente Palio assenza di comunicazione una nuova gara non condivisa i problemi nell'uso della taverna questi motivi che hanno portato alla decisione ma c'è l'incubo cocaina a Foligno e boom di consumi l'attività di spaccio in mano agli albanesi martedì l'ultimo arresto di un 22enne con ben 300 dosi anche a Foligno cambia la viabilità per il passaggio del giro modifica la circolazione uscita anticipata dalle scuole nella giornata di mercoledì quando la carovana rosa passerà per arrivare poi cioè o meglio passerà dopo esser partita da Assisi ma quel che non si regge più secondo il corriere a Foligno è la maggioranza consigliare salta il consiglio comunale chiamato a provare il bilancio l'assente schiarea si giustifica avevo comunicato la mia indisponibilità per problemi familiari fatto sta che l'assenza di un consigliere mette a rischio la maggioranza mi smetti il che significa che non è molto solida il centro studi città di Foligno intanto organizza il seminario terremoto e smart land riflessioni per superare la crisi post sisma non abbandonate il teatro lirico l'appello a Spoleto di 13 musicisti per salvare lo sperimentale il comune dice subito un tavolo di confronto con regione e politica e poi il giro d'Italia targato Conad in questo caso non parliamo del giro ciclistico fa tappa per tre giorni l'evento itinerante grande viaggio insieme lo scorso anno si era svolto a Gubbio nasce per incontrare le persone ed essere nei luoghi in cui si costruisce la comunità e poi la politica ecco la mia lista senza ombre si presenta De Agustinis con i 24 esponenti di laboratorio Spoleto per il centro-destra squadra al completo anche per fratelli d'Italia a Terni tra risse e droga non si vive più paura e sconforto tra residenti commercianti del quadrato fra piazza Solferino via Garofoli via Mancini e via Manassei e poi l'ex dirigente paghi 100 mila euro beni del comune dimenticati la procura della Corte dei Conti avanza le sue richieste l'oggetto faceva per esempio nel mirino c'è un generatore elettrico l'oggetto faceva parte degli arredi dell'ex convento di San Valentino su questo aspetto l'avvocato ha fondato la sua ringa in aula inchiesta penale archiviata ma nonostante questo la Corte dei Conti chiede conto è il caso di dire all'ex dirigente comunale siamo alla Nazione ancora ripartendo da Assisi anche qui bus elettrici aria di corto circuito la salvezza nei varchi elettronici Matarangolo invita a ripensare la viabilità cittadina sindacati all'attacco forti criticità legate al prolungamento del percorso di via Marconi e poi da Gubbio si celebrano i ceri degli ultimi non si placa il dibattito sulle punte in questo caso fateci fare una battuta non sono quelle le punte che prendono il cero ma sono le punte del muretto dei dissuasori di durissimo il PD atto di arroganza invece liberi e uguali o meglio non è l'EU ma è liberi democratici è un refuso politico della Nazione liberi democratici invece difendono la scelta nella sala della Rengo le fasi preparatorie dell'alzata dove questa è un'immagine di domenica una foto Gavirati i ceri riposano in attesa di martedì prossimo a Gualdo è tutto pronto per la tappa del giro traffico bloccato e scuole chiuse mentre a Valsolda gran festa per l'ascensione escursione sui monti con il CAI si parla anche di libri anche se perdonerete la autocitazione si parla appunto di Nel Segno dei Padri con la presentazione che si è svolta a Venezia sostanze non previste valori superati siamo a Città di Castello Coro il Glass ecco i dati dell'ARPA l'assessore regionale Cecchini fornisce i risultati dei campionamenti mentre allievi musicisti saranno in 2000 per il concorso Zangarelli intanto sempre a Città di Castello il Lions celebra i 50 anni dalla fondazione una raffica di iniziative sempre dal capoluogo Tifernate ambulanti del mercato infuriati la protesta finisce in consiglio dibattito avviato da Mancini della Lega mentre Croci del PSI parla di iniziativa sconveniente che cosa contestano i venditori la posizione del mercato e c'è la replica dell'assessore a Umbertine invece edilizia scolastica e sicurezza sono i punti decisivi del programma dell'ex sindaco Locchi che però si ricandida Caso Giostra a Foligno incontri in procura fondamentale far emergere la verità i legali degli indagati hanno rappresentato le ragioni al PM intanto i big vanno al galoppo contro le leucemie al centro le lame i migliori cavalieri danno spazio alla solidarietà da Spoleto 5 Stelle candidatura rischio per Tommaso Biondi perché è colpa di una condanna per satira era stato denunciato per diffamazione dopo la rivista intanto comune artisti in difesa del lirico tra i firmatari dell'appello anche Nicola Piovani siamo a andiamoci spostiamo a Terni chiesti 110 mila euro di risarcimento per il dirigente nei guai per un generatore la giustizia contabile contesta l'utilizzo dei beni di proprietà comunali invece a Orvieto vendita dell'ex ospedale nel mirino della autorità anti-corruzione il dossier sul tavolo di Cantone cittadinanza attiva invia i documenti appunto all'autority chiudiamo con il messaggero anche qui con le pagine comprensoriali tappa del giro Assisi si tinge di rosa prima ancora di Assisi Gualdo in vista dell'arrivo della carovana allestita la mostra dal titolo l'evoluzione della bicicletta nella storia mercoledì prima della partenza sfilerà il corteo degli studenti delle scuole del comprensorio a Umberti in uno sportello per un bracco e lo chiede il commissario De Rosa mentre a Gubbio slittano i tempi per l'impianta biomassa sul quale ha intervenuto nei giorni scorsi ai nostri microfoni in maniera molto perentoria il presidente di Confagricoltura Rossi che ha criticato le proteste per un impianto che lui dice assolutamente innocuo sul piano della salute sala la protesta il comitato salute ambiente si mobilita per far revocare i permessi rilasciati permessi che peraltro non dipendono dal comune Gubbio vanno in scena i liceali stasera teatro i liceali del Mazzatinti con il loro progetto riflessioni ad alta voce e c'è un appello da Città di Castello per riattivare la linea dell'ex FCU i cui lavori peraltro sono comunque in corso e stanno procedendo discretamente bene un carico di cocaina nell'auto per i clienti VIP arrestato a Foligno prima di essere intercettato un'albanese gettato dal finestrino all'involucro la sostanza era destinata al mercato cittadino valore 6.000 euro intanto a Foligno si prepara a festeggiare i 100 anni l'istituto Scarpellini la scuola era così e poi Bevagna ritorna arte in tavola tre giorni dedicati al cibo di qualità con Epta Confcommercio da Spoleto De Agustini si rivela la squadra professionisti commercialisti avvocati imprenditori medici nella lista c'è anche un pompiere nel team pure la vicepresidente dell'Avis una volontaria e un esperto di crisi aziendali siamo a Terni degrado e rifiuti la città si ribella l'abbandono a Cardeto grido di allarme per l'incuria con le rolletta residenti ripuliscono le siepi a Campo Micciolo passeggiata ecologica martiri della libertà anziani in campo e tutto questo appunto da Terni ma dalla seconda pagina di Terni troviamo l'indagine per la morte di Riccardo Cirilli l'operaio travolto da mezzo mentre stava lavorando lungo i binari ucciso dal Caterpillar indagato l'autista il magistrato ordina l'autopsia poi funerale a Castelgiorgio dove il sindaco annulla la festa del patrono in segno di lutto la terza pagina dedicata a Terni il messaggero invece guarda la politica avvocati manager e politici parte la corsa ultimate le liste si passano in rassegno i nomi dei candidati in consiglio comunale Sonia Bertocco Fiorini capolista per la Lega l'ex assessore Beco torna in campo per Paolo Angeletti e anche TRG tornerà in campo per le elezioni perché partirà dalla prossima settimana venerdì sera alle 21.45 un nuovo appuntamento dedicato proprio alla città di Terni in particolare a cura di Media Country con un dibattito politico ma anche un'analisi economica con Gianfilippo Dallacroce e Giuseppe Castellini tutto questo da venerdì prossimo alle 21.45 noi chiudiamo questa prima parte di rassegna dando un'occhiata alla cultura con l'inserto album del Corriere dell'Umbria Umbria Jets così il sistema non regge un milione di euro da difendere per rimanere al top dal 13 al 22 luglio tutte le novità della 45esima edizione ma Pagnotta il patron della manifestazione è critico il palco rimarrà a destra della Fontana Maggiore la fondazione Cassa di Spagna di Perugia taglia i fondi delle Clinics punto sui restauri nuovi locali per le Gem Session queste alcune anticipazioni ma da Perugia il re degli influencer Mariano Di Vaio dall'e-commerce alla collezione MDV oltre alla foto c'è di più ha fatto diventare un vero e proprio business la sua attività online lasciamo il Corriere andiamo alla Nazione le due pagine dell'Umbria in prima fila anche qui Umbria Jets taglio di risorse alle Clinics complimenti alla fondazione dice eronicamente Pagnotta che punta il dito contro l'istituto diretto guidato da Giampiero Bianconi tutte le stelle di Umbria Jets intanto inaugurazione al Santa Giuliana con Quincy Jones e poi Gil Veloso Massive Attack Barne e Metteni novità sfide conferme di un'edizione straordinaria e per piazza 4 novembre il palco non si tocca in arrivo novità sul fronte sicurezza insomma ampio spazio come vediamo dedicato all'anteprime di Umbria Jets infine il messaggero per chiudere anche qui tanto per cambiare la rassegna ricca edizione con polemica ma si parla anche di Eggi e la sincerità di Arisa adoro l'Umbria dovrei prendere una casa qui dice la cantante che si esibisce nello spoletino infine tutti i pazzi per Guglielmo Di Baskervi che è il protagonista della fiction Il nome della rosa che si sta girando in questi giorni a Perugia ma avrà anche dei ciac a Bevagna e si dice anche nell'Interland e Ugubino è tutto ma solo per ora perché dopo la pubblicità siamo con lo sport